E' una donna di Michele. Come sono loro? I mariti partivano per le crociate e queste donne restavano mesi nelle loro case e nei boschi ad aspettarli. Marie Louise? C'è mio marito? No, è partito ieri sera. Sono tra le donne più tradite della Costa Azzurra. Lo sapeva? Ieri ti hanno visto al porto insieme a qualcuno che non era Jean-André. E' stata la prima volta che ho tradito Jean. Non credevo potesse essere così spaventoso. Non essere mai stati innamorati. Lasceresti mai Jean per lui? Ieri hai detto che capivi come ci si possa innamorare di me e poi smettere di amarmi. Cosa che io non ho? E' ricco. Almeno una volta prima di morire dobbiamo pur parlare di noi. Anche tu sei da sola. Susanna? Sì? Io vorrei amarti. Ma tornerai? Ho qui tiado...? Chi fai? Ehm... Come si vittabali,